Bella raga, benvenuti in un nuovo video Io mi sto triggerando perchè ho droppato 5.800 da 5.900 perchè sto beccando praticamente i matchup orrendi no vabbè, eccoci qua Startiamo con scheletrini Arceri da dietro Sono tentato di mettere un arco in attacco e quasi quasi ce lo metto io tanto se non fa niente, gioca qualcosa eh vabbè eh vabbè per favore, per favore, per favore per favore, per favore bello, ok oh bellissimo magnifico, magnifico, magnifico magnifico, magnifico GG sto beccando matchup scandalosi comunque quelli li lasciamo tanto sono innocui praticamente con uno spirito ah adesso rifanno i danni eh non frizza più lo spiritello qua direi di andare di nuovo in attacco perchè non ha il coso però ha quello e io sono un po' lento sono lento vabbè almeno quello scoppia vabbè lo lasciamo così eh lui ha usato 5-3 quindi vabbè non è il risultato non è giocata così brutta alla fine dell'arco io quasi quasi ci metto questo così tanto per buttare qualcosa dato questo questo qua si aspetta troppo mamma mia mi sta facendo innervosire sta aspettando troppo e non mi piace qua difendiamo raga in teoria non ha spell pesanti quindi ci piace belli sti draghi qua metto questo perchè altrimenti mi arriva torre mi sa qua sono tentato vabbè ci mettiamo un arco qua dai tanto questo qua è capace di clonare va bene va bene va bene ok blocchiamo qua vediamo se riesco a fare così ah mi butta la tornata però vabbè bella giocata però almeno un po' di dannetti solo che dobbiamo stare attenti ora ci tocca difendere spiritero me la salvo per difendere qua ci metto la tesla madora raga bella la tronco va bene bella difesa io direi di difendere ancora tanto siamo su di danni lui non ci può arrivare se difendiamo qua mi butterei i draghi volevi mamma mia raga che predict c'è troppo facile sto gioco e qua abbiamo una bella situa è tardi vabbè oh bello che carino gg brava partita raga va bene va bene ci sta ci sta ci sta andiamo con la prossima che gioco lento dai 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 foglia 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 ecco bravo 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 una fortuna e qua solita routine tronco qua ci metto questo quasi quasi di solito appena mettono un mortaio ci può stare come giocata vabbè qua metto per prevenire però vabbè ci sta ok sto qua c'è scheletrine all'11 mi piacciono sto qua in teoria mortaio minatore se mi butta un tank vado dall'altra tipo qua vabbè non è un tank però ci sta che sprechi il moschettiere lì così almeno faccio così qua mi butta il minatore per forza invece ah ok a quello a quello va bene va bene ha giocato bene ha giocato bene ah spero che non abbia quello con la terremoto però se la terremoto è un po' un problema ma tanto con il matchup che sto beccando oggi è l'ultimo dei miei problemi va bene 6x6 36 va bene va bene avessi tankato avrei direttamente vinto mi sa però era un po' rischi perché magari avrei overcomitato qua mi butta i pipistrelli forse ma no ma no eh lì ha giocato bene bravo bravo giuggio bravo giuggio ah è vero l'aldomatore devo stare attento a come uso la tesla ecco sono un pollo sono un pollo a volte no come c'è aspetta ne ha dato un'altra no way no way pazienza qua io sono tentato nel vedere un po' per aspettare e vedere che spell ha ok facciamo così facciamo così perché mi butterà qualcosa facciamo così non so se spell pesa ok alla fire bello va bene mi piace mi piace mi piace 810 facciamo così facciamo cosa è un po' brutto però ci sta ok vai un po' lì musk bravo va bene qua mi butterà il moschettiere forse ok va bene va bene gg gg oh meno male meno male raga andiamo con la prossima e ultima partita e raga ogni tanto ogni tanto vado in live ultimamente quindi non so quando pubblico sto video però attivate la campanella così almeno potete vedere quando vado in live e niente continuiamo con l'ultima mi raccomando iscrivetevi e condividete allora andiamo con l'ultima tronchetto ok quando buttano i sgol mi piace perché con i mazzi veloci ok sto qua arco arco palese vai così ah peccato peccato ha giocato bene qua devo fare per forza così altrimenti prendo brutti danni mi ha un po' outciclato però no problem stiamo attenti a difendere ora che siamo un po' sotto mi ha preso la sprovvista ok va bene va bene eh avrei dovuto metterlo tipo qua all'arco così almeno non gli devo tanta value per la fire però vabbè fa lo stesso qua bisogna predittare qualcosa mi sa qua non gli la butti nella fireball al moschettiere e si che gli la butti qua c'è così quasi quasi sono tentato anche da fare così perché ah peccato no vabbè sapevo che non avrebbe buttato così davanti perché c'avevo il l'arco e quindi ci stava la tesla lì cicliamo cicliamo Sono tentato A far così Ah Sono lento Sono lento Peccato Bello Bravo Ok qua bisogna difendere Però lo siamo messi bene Dai Ok Ok Io butto un tronco Faccio danni Facciamo così Va bene Facciamo così Va bene Va bene Facciamo anche così Va bene L'abbiamo difesa Però siamo sotto Facciamo così Va bene Va bene Ok Sono un po' focussato Ora scusate Se non commento Tanto Ok Dobbiamo difendere Va bene Va bene Attacchiamo un po' Bello Bravo Bravo Arco Bravo Arco Qua mettiamo la pressure Va bene Va bene Va bene Andiamo a cattivi 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 Bravo Ok 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 Va bene Così mi piace Vuoto 10 Qua mi metterà magari un moschettiere Guarda che fa il calimatto Mamma mia lo distraggo Param Grande Targettator GG Well played Belle partite raga Adesso sono davvero soddisfatto Ho dovuto rifare il video tipo 4 volte Però ne valza la pena Dai GG Grazie a tutti per il supporto Come sempre E Ci becchiamo alla prossima E vi vediamo un po' qua Va bene dai Qualcosa ho recuperato E niente Bella Ciao ciao